Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui oggi con la guida al platino di Hidden Bunny, un nuovo titolo disponibile sul PlayStation Store al costo di un euro. È un altro gioco facilissimo da platinare che offre in tutto 46 trofei, incluso anche il platino. Si tratta di un puzzle game in cui dovremo trovare tutti e 45 i coniglietti nascosti all'interno della mappa di gioco. Ogni volta che troveremo un coniglietto sbloccheremo anche un trofeo. I coniglietti sono abbastanza facili da trovare all'interno della mappa, fate attenzione a quelli un pochino più piccoli o quelli nascosti dietro altri personaggi e alcuni conigli che vengono raffigurati come statue che potrebbero essere un pochino meno visibili. I controlli sono molto semplici, potremo muoverci con lo stick sinistro e con il pulsante X potremo scovare i vari coniglietti. Dopo aver trovato tutti i coniglietti si sbloccheranno quindi i vari trofei e anche il platino. Una volta completata questa scoperta volendo potreste anche continuare a dare la caccia agli altri animaletti nascosti come ad esempio i coccodrilli, le ranocchie o altre cose che il gioco vi chiederà di trovare. Però per quanto riguarda i trofei sarà sufficiente scovare tutti i coniglietti nascosti. E questo è quanto, per trovare tutti quanti i coniglietti nascosti vi serviranno dai 3 ai 5 minuti quindi davvero poco tempo per sbloccare tutti quanti i trofei e un nuovo platino. Io quindi mi fermo qui con questa guida, spero che vi sia piaciuta e vi do appuntamento con il prossimo video sul canale di Safutobu. Ciao a tutti! 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 !